Quindi un po' col sedere, diciamo che sono stato un po' con il sedere, diciamo che sono stato un po' con il sedere, ok, va bene, è forte, va bene, pensavo che era del ermidante, capite? No, pensavo che a me non era del ermidante che... No, pensavo che sono stato un po' con il sedere, ok, va bene, 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 va bene. No, mica ci dobbiamo andare, per carità, è così, è sicuro che uno si può fare un ginetto. Vabbè, tu dimmi, vai a destra, vai a sinistra. Vabbè, qui? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti